Ciao ragazzi, oggi video diverso dal solito in cui vi parlo di leggings che potete trovare in tantissimi modelli diversi da quelli che vi mostro oggi nella pagina facebook di LegStreamLeggings o sul sito www.nubiz.it in più per qualsiasi informazione potete scrivere a nubiz.com questi sono i due leggings che mi sono stati inviati uno Galaxy al costo di 17,90€ più 7€ di spedizione li potete trovare in due taglie SM o ML sono indossabili fino alla 46-48€ gli altri invece, i velvet damascati neri vengono 18,90€ sempre più 7€ di spedizione sono taglia unica questi sono disponibili anche in rosso, in grigio e petrolio sono più simili in una calza che in leggings perché come vedete c'è la parte in velo che risulta più trasparente e fa intravedere la gamba hanno poi degli inserti in velluto bellissimi che li rendono molto eleganti questi leggings sono molto particolari hanno delle stampe e colori bellissimi in HD riprodotti proprio da foto della NASA hanno un elastico alla caviglia molto morbido come quello in vita a differenza dei velvet damascati che risultano un pochino più duri sono entrambi dei leggings fantastici è difficile ripenerli così belli e di ottima qualità vi lascio sotto nell'info box tutti i link per lo shop dove potete trovare questi e altri modelli un bacio, a presto! 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 a presto!